La chiamiamo guerra, la pandemia, combattuta nelle trincee ospedaliere ormai da un anno da un esercito di sanitari armati di mascherine, visiere, tute e guanti. Nelle retrovie, le milizie dei soldati semplici, professionisti e lavoratori di ogni genere, ma anche semplici cittadini, che le loro battaglie le combattono soltanto resistendo agli attacchi del virus, cercando di non ammalarsi. Finché, dopo quasi un anno di pandemia, ecco arrivare l'amuleto, lo scudo dei vaccini, quello che in questa guerra sanitaria può fare davvero la differenza. I primi a ricevere la nuova armatura sono giustamente i sanitari, la prima linea della guerra al virus, poi, via via, i più esposti al contagio e i più deboli, e poi tutti gli altri soldati, che però non sono tutti uguali in questa scala di priorità e di prenotazione all'armatura del vaccino. C'è infatti una milizia infaticabile e silente, che dall'inizio dell'emergenza sanitaria non ha mai abbandonato il campo di battaglia. Commessi e cassieri dei supermercati, chiamati a lavorare e resistere al virus giorno dopo giorno, che ora aspettano composti lo scudo del vaccino per potenziare la propria armatura. Sono per lo più donne, mamme, impiegate nel settore del commercio alimentare e dei beni di prima necessità, che oggettivamente più di altre categorie che rivendicano priorità discutibili, dovrebbero essere tra le prime a ricevere il vaccino, per l'alto rischio di esposizione al virus che, spesa dopo spesa, ha centinaia di facce diverse nelle fiumane di clienti dei supermercati e dei discount, come testimoniano le voci di queste lavoratrici nel racconto della loro quotidianità lavorativa. Ovviamente ci sentiamo messe da parte, insomma, noi dall'8 marzo abbiamo lavorato ininterrottamente. Zona gialla, zona arancione, zona rossa, e comunque i nostri supermercati sono sempre affollati, e vengono presi come passatempo da molte famiglie, che vengono anche semplicemente a comprare un stupido pacchetto di caramelle, proprio per prendere quella boccata d'aria. Dobbiamo anche controllare che siano a debita distanza mentre fanno la fila. Mi sento un carabiniere più che una cassiera a volte. Ci sono stati casi in cui siamo stati minacciati dai clienti stessi, perché magari ci siamo permessi di dire, guardi, tenga la mascherina, o con la mascherina non può entrare. Molte volte ci troviamo a dover spiegare ai clienti l'ABC del comportamento e dell'educazione. La paura ci sta, perché stando in cassa ogni giorno a contatto con tanti clienti, alcuni di loro, anche la mascherina, non la portano bene, dobbiamo sempre un po' richiamarli, stargli dietro, è difficile riuscire a gestire la situazione. Non è facile mettere i protocolli in pratica, lì dove le aziende ci forniscono soltanto delle mascherine chirurgiche, diciamo dei pexiglass. Io sono appena guarita dal Covid e sono stata 40 giorni a casa e potrei, tra virgolette, stare tranquilla, perché diciamo che ho sviluppato anticorpi, invece ho più paura di prima perché so cosa vuol dire. Io in un turno di lavoro part time di 4 ore posso anche fare 500 scontrini, quindi 500 clienti diversi, maneggiamo i soldi che loro tirano fuori dai portafogli e tocchiamo la merce che loro stessi hanno preso e poggiato sul nastro. Io penso che la nostra categoria sia una tra le più a rischio di tutte, vada vaccinata prima delle altre perché siamo veramente sottoposti a un rischio davvero grande che deve essere preso in considerazione. Per cui a oggi penso che sia indispensabile pensare a un vaccino anche per noi. Il problema è che noi stiamo in contatto con tanta gente, per cui una persona come noi che si contagia vuol dire contagiare poi anche la clientela che passa e sono tante persone.